Era un odonto tecnico che effettuava prestazioni da odontoiatra. Si tratta di un cinquantenne residente nel Fabrianese che aveva aperto uno studio a suo nome. La Guardia di Finanza di Fabriano, nell'ambito di un'ordinaria attività fiscale, ha denunciato per esercizio abusivo della professione l'uomo. Un'attività molto radicata nel territorio. Erano cinque i dentisti abilitati che vi lavoravano con tempistiche diverse, dunque esterni allo studio. I militari si sono insospettiti della facilità però con la quale il tecnico poteva accedere agli ambulatori, ai prodotti medicinali e alle incongruenze tra i cospicui ricavi ricostruibili a fronte delle scarse ore di presenza però dei dentisti esterni. Gli stessi clienti hanno poi confermato che era l'uomo, il più delle volte, a mettere le mani nelle loro bocche per prestazioni odontoiatriche. È stata denunciata in concorso anche la responsabile sanitaria della struttura per non aver denunciato tale condotta e aver proseguito a lavorare con il collega. I finanzieri infine hanno sorpreso una donna intenta a mansioni di assistente alla poltrona retribuita in contanti e priva di contratto di assunzione. Per tutti questi motivi, dopo aver apposto i sigilli allo studio sequestrandolo, i finanzieri hanno denunciato l'uomo per esercizio abusivo della professione odontoiatra contestandogli anche le anomalie di natura amministrativa per gli aspetti fiscali e per l'impiego di personale in nero.